E sì Carmine, infatti siamo proprio qui nella riserva d'Annunziana, nella riserva dell'Emilità d'Annunziana di Pescara, oggi dopo diversi mesi di chiusura, è il primo giorno in cui la riserva è tornata fruibile e non potevamo forse scegliere giorno migliore perché è una bellissima giornata, la temperatura è mite e dietro di noi abbiamo tantissimi segnali di primavera, le pratoline sono quelle poi che introducono alla primavera. Allora l'abbiamo voluta anche un po' celebrare così venendo qua perché è uno spazio importante restituito alla città, uno spazio che forse non tutti conoscono, la gente che abita qui intorno sicuramente sì ma magari spingendosi oltre non si prende la macchina per arrivare qua ed è un peccato perché è davvero un piccolo paradiso al fine dei conti in città. Un piccolo paradiso restituito alla città, dicevo dopo diversi lavori appunto per farceli raccontare come l'assessore Paola Marcheggiani che intanto oggi è molto orgogliosa di questa restituzione ma soprattutto ci vuole spiegare che cosa è accaduto qua di diverso rispetto a prima della chiusura. Sì era accaduto un albero improvvisamente dopo il passaggio di una scuola alla fine di ottobre per cui noi abbiamo deciso di chiudere la riserva per renderla e ridonarla più sicura. Sono stati fatti tanti studi, circa 430 analisi visuali di stabilità, 430 e quindi di cui 20 poi sono stati gli interventi strumentali su questi alberi. Abbiamo deciso di rendere sicuri i sentieri e abbiamo interdetto al pubblico con questo sistema corda palo una grande quantità di riserva in maniera tale che abbiamo rispettato ciò che nel piano naturalistico abbiamo sottolineato che questa è una riserva non è un parco. Per cui abbiamo delimitato queste zone nel rispetto della natura e per la sicurezza dei cittadini. 56 ettari di riserva con questi sentieri che comunque è vero non è un parco ma ci sono ampie zone fruibili sia per attività sportive perché poi ci sono anche i percorsi. E quanti alberi, fra alberi e arbusti cosa è stato piantumato? Iniziamo da lunedì la ripiantumazione, sono state abbattute circa 170 piante ma di queste 130 erano morte in piedi, erano rimaste lì e quindi potevano essere un pericolo proprio per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei fruitori della riserva. Ne ripiantumiamo appunto mille, 500 arbusti e 500 alberi. Tutto questo poi fa parte di un progetto generale che coinvolgerà tutti i parchi cittadini e le vie con altri 2000 esemplari di piante che saranno piantumate per tutta la città. Marina? Bene, allora Carmine se hai domande, altrimenti rimandiamo all'approfondimento. Sì, ho una curiosità Marina, volevo chiedere all'assessore Marcheggiani se nel corso di questi lavori poi è emerso, perché c'è stato anche un lavoro scientifico parallelo, anche qualche novità sul fronte della biodiversità di flora e fauna che vengono offerte da questi spazi? Chiedo subito, il direttore Carmine Ferrantuonio si chiedeva se nel corso di queste risistemazioni sono emerse piante particolari, è emerso qualche novità sotto il profilo della biodiversità? Il professor Pirone che io voglio ringraziare, che considero il papà della riserva, ci racconta questa riserva dal punto di vista naturalistico con una serie di particolarità e di nuove specie che sono state sia dal punto di vista floristico che faunistico, anche perché gli uffici, che ringrazio sempre perché sono agronomi veramente preparati, hanno commissionato questo studio che prende in considerazione tante nuove varietà. Bene, allora prima che ci attacchino le paperelle che qua ci stanno osservando in maniera strana, io ti ridò la linea Carmine.